Oggi vogliamo darvi una bellissima notizia. L'ampliamento della discarica di Baricella, 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, non si farà più. ERA ha fatto marci indietro ed è una grandissima vittoria per noi ma soprattutto per i cittadini e per quel comitato che ha dato grande battaglia contro questo scempio e che noi abbiamo voluto sempre supportare. Questa mattina però ci tocca leggere le parole surreali dell'assessora Gazzolo, del partito, degli inceneritori e delle discariche che si compiace per questa decisione. Peccato che quando noi ci siamo interessati alla vicenda con due interrogazioni da 10 pagine ciascuna e 10 quesiti nei quali chiedevamo tra l'altro se la regione intendesse autorizzare una discarica ad altissimo rischio inondazione e per il quale non era stata fatta una seria analisi del rischio sanitario l'assessora nella sua striminzita risposta non prende nessuna posizione lavandosene completamente le mani e non solo ci consiglia anche gentilmente a noi e al Movimento 5 Stelle di occuparci dei rifiuti di Roma. Hanno veramente la faccia di bronzo. Al di là di questo noi siamo contenti che la discarica di baricella non si farà e non si deve fare né ora né mai una grandissima vittoria di tutti noi e di tutti voi.